Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Prima di tutto perdonate un po' il calo di voce però ho preso una frescata e sono arrivata ad un punto in cui non potevo più rimandare la registrazione di questi video Qualcuno però mi ha detto che questa voce è più sexy e quindi ve la prendete così Allora oggi ho deciso di girare finalmente il video delle letture dell'ultimo periodo in particolare le letture di aprile e maggio Prima però come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video E ovviamente se non lo fate già seguitemi su Instagram io sono Martina Tazza Inizio subito parlandovi di un libro bellissimo che ho letto in questi due mesi ovvero il quaderno dell'amore perduto di Valérie Perrin Ho parlato ampiamente di questo libro in un video che vi lascio qui e nell'info box nel quale parlo sia di questo libro che di cambiare l'acqua ai fiori Quindi non mi dilungherò troppo vi dico soltanto che il libro mi è piaciuto tantissimo È una storia coinvolgente una storia emozionante di quelle alle quali si continua a pensare anche dopo aver finito il libro Racconta la storia di più personaggi diciamo quindi si alternano storie del presente e del passato Storie d'amore ma anche con un mistero da risolvere Insomma una di quelle storie che vi fa davvero correre verso il finale perché volete sapere come la vicenda insomma si risolverà L'autrice scrive benissimo ormai è diventata una delle mie autrici preferite perché ha un modo di scrivere allo stesso tempo poetico Ma anche estremamente intrigante e quindi riesce a tenerci incollati alle pagine Se volete approfondire vi rimando in ogni caso a quel video nel quale ho parlato anche della trama e di dettagli aggiuntivi Rimane il fatto che comunque io vi straconsiglio questo libro perché se avete letto Cambiare l'acqua ai fiori Che è poi il suo libro più famoso sicuramente vi innamorerete anche di questo Nei mesi di aprile e maggio ho anche ascoltato due audiolibri Avevo la possibilità di usufruire di un mese gratuito su Audible Come sapete io uso soltanto questi codici sconto per ascoltare gli audiolibri non ho nessun abbonamento attivo E appunto ho deciso di sfruttare quel mese nell'ascolto di due libri, due gialli di Agatha Christie Il primo è stato L'assassinio di Roger Ackroyd e il secondo invece Se morisse mio marito Ve ne parlo insieme perché in ogni caso i due libri sono dei gialli, hanno tanti tratti in comune Trattandosi appunto di due proprio classici gialli all'Agatha Christie Nel primo libro si parla chiaramente della morte di questo Roger Ackroyd Delle indagini che si fanno per scoprire l'assassino E nel secondo ovviamente parliamo della morte di un uomo la cui moglie aveva desiderato questa morte ardentemente In entrambi i libri c'è il nostro Poirot che conduce le indagini Ma sono raccontati dal punto di vista di un altro personaggio che accompagna Poirot nelle sue indagini Quindi vediamo tutto dal punto di vista di una persona che sì è sempre presente Vede le stesse cose che vede Poirot ma non fa gli stessi collegamenti E non riesce a capire tutto come invece fa il detective ormai diventato famosissimo Inoltre in entrambi i libri diciamo il lettore è spinto a credere che o meglio anzi tutte le indagini che vengono fatte dalla polizia Spingono a credere che l'assassino sia una determinata persona perché tutti gli indizi portano a lei o a lui insomma In realtà chiaramente Poirot riesce a vedere oltre questi indizi e andare più a fondo E perlomeno nel mio caso riesce sempre a sorprenderci nel finale Una cosa che voglio dire su questi due libri è il fatto che ascoltandoli su Audible Ho trovato una versione meravigliosa che era recitata Proprio come se si trattasse di una commedia Quindi ogni personaggio aveva una voce diversa E c'erano anche delle musiche di sottofondo, dei suoni che rimarcavano particolari azioni Come una porta che si chiude o che cigola o un libro che viene sfogliato e così via E questo ha reso l'ascolto ancora più interattivo, ancora più coinvolgente Sembrava di assistere a una commedia Veramente molto bello Quindi se avete o Audible avete la possibilità di ascoltare queste versioni Ve le consiglio perché sono davvero molto carine Altro libro letto nell'ultimo periodo è Finché il caffè è caldo di Toshikatsu Toshikatsu Toshikatsu? Ma chi è? Toshikatsu? Sono giapponese? Ma è maschio o una femmina secondo te? Ah, è un uomo È un uomo? Sì, è abbastanza sfigato A vedere? Molto Un altro libro letto nell'ultimo periodo è Finché il caffè è caldo di Toshikatsu Non lo dico, dai Io non ci avevo fatto caso Basta Non lo dici No, non lo dici Rido Basta Non mi fa ridere Si vede che sto ridendo Dai, non lo dico, Capri, mi viene troppo da ridere Lo dico? Altro libro letto nell'ultimo periodo è Finché il caffè è caldo di... Non lo sapevo che andava così Eh, via Altro libro letto nell'ultimo periodo è Finché il caffè è caldo di un autore giapponese che ha un nome che mi fa ridere e che quindi non pronuncerò Comunque lo conoscete perché ho postato la foto su Instagram in tantissimi mi avete detto di averlo letto e che vi era piaciuto E devo dire che concordo con la vostra opinione Questo libro praticamente parla di un luogo molto particolare in Giappone Un locale, un bar si potrebbe definire Che però ha delle caratteristiche che lo rendono unico Non soltanto per la posizione e insomma il modo in cui viene trovato dei clienti eccetera Ma soprattutto perché al suo interno c'è la possibilità di fare, di vivere un'esperienza unica Ovvero è possibile tornare indietro nel tempo in un momento specifico della propria vita scelta chiaramente della persona che intraprende questo viaggio Per riviverlo ecco in qualche maniera Ma ovviamente ci sono delle regole In questo caso non spoilerò niente perché le regole vengono dette praticamente all'inizio del libro Non ve le dico tutte perché è anche carino scoprirle Però vi dico magari le principali Che sono il fatto che bisogna essere seduti in una determinata sedia a un determinato tavolo di questo locale Che è possibile rimanere in quel momento del tempo passato soltanto appunto finché il caffè è caldo Quindi viene versata una tazza di caffè ma quando il caffè si raffredda si deve obbligatoriamente tornare al presente Ma soprattutto la regola che mi ha colpita di più è stato il fatto che quando si torna indietro nel tempo Qualsiasi cosa venga detta o fatta non potrà modificare il presente Questo è stato secondo me il colpo di genio ecco dell'autore Perché se c'è una cosa che abbiamo imparato da tutti i film e tutta la letteratura sui viaggi nel tempo È che quando si torna indietro nel tempo dobbiamo stare attenti a non fare niente Perché qualsiasi cosa cambiamo potrebbe poi modificare l'intero futuro e quindi il nostro presente E in questo caso appunto non è così Quindi viene stravolta quella che è l'unica regola che conosciamo E allora ci chiediamo che senso ha tornare indietro nel tempo Se qualsiasi cosa facciamo alla fine non porterà nessun cambiamento È proprio qui la bravura dell'autore nel raccontare le varie storie di chi intraprende questo viaggio Perché vediamo che forse un motivo per viaggiare nel tempo anche con questa regola c'è Ovviamente non posso dire altro ci sono tante storie mi sembra cinque storie All'interno del libro di personaggi che comunque gravitano intorno a questo locale E che fanno questo viaggio La cosa interessante per me è stata alla fine del libro chiedermi se io Avessi la possibilità di tornare in un determinato momento del mio passato Sapendo che però qualsiasi cosa io faccia non potrà cambiare il mio presente Che cosa sceglierei di fare? È molto interessante perché non è sicuramente una risposta scontata Anzi chiedo anche a voi che cosa fareste e in che punto della vostra vita tornereste Un'ultima nota su questo libro è il fatto che secondo me in alcuni punti Non riuscivo, sentivo la scrittura un po' estranea Nel senso che alcuni dialoghi mi sembravano un po' costruiti A volte c'erano delle battute quasi inutili Però io questa sensazione di estraneità l'ho sentita altre volte leggendo libri di autori giapponesi Quindi presumo che lo stile di scrittura orientale o comunque giapponese Sia diverso a quello a cui siamo abituati noi E quindi c'è un po' questo senso di estraneità Perché l'ho riscontrato in più autori Questo però chiaramente non toglie niente al libro Il libro è molto breve, si legge molto bene Quindi una lettura che vi consiglio L'ultimo libro letto è Per le strade di Tokyo di Nick Bradley Quindi dato che sia questo libro che il precedente sono stati letti per l'ultimo incontro del club del libro Capirete che il tema era Giappone E quindi ho appunto letto anche questo titolo che avevo in casa Allora in questo caso la storia parla Inizia diciamo con un tatuatore che riceve un incarico molto particolare Quello di tatuare nella schiena di una ragazza tutta la piantina di Tokyo È un lavoro molto lungo che richiede mesi di lavoro e che lo impegnerà molto Nella città, diciamo la piantina della città deve essere vuota Nel senso che la ragazza non vuole nessuna persona rappresentata nel suo tatuaggio Ma il tatuatore quasi per gioco decide di inserire una piccola gatta Calico All'interno del suo disegno Man mano che va avanti col lavoro si accorge che questa gatta non si trova nello stesso punto dove l'ha tatuata Ma che questa gatta si sposta all'interno del disegno Da qui iniziano i racconti di tanti personaggi Le loro storie, le loro vite, le loro avventure E il fatto che vengono a un certo punto in qualche maniera più o meno consistente In contatto con questa gatta Calico Quindi qualcuno proprio magari ci vive insieme Altri personaggi invece la intravedono che passa per strada Fatto sta che ognuno dei personaggi è in qualche modo sfiorato da questa gatta I personaggi vediamo fin dalle prime storie sono collegati gli uni agli altri Anche se abbiamo la sensazione che una storia poi venga interrotta per dedicarci a qualche altro personaggio In realtà capiamo che questo personaggio era in qualche maniera legato al precedente Diciamo che i personaggi però sono tanti E quindi diventa, insomma bisogna un attimino concentrarsi per ricordare tutti i legami che ci sono Qui arriva praticamente la parte diciamo negativa del libro secondo me Cioè per la mia esperienza è stato complicato tenere le fila di questa storia Nel senso che i personaggi sono tanti, tantissimi Hanno nomi giapponesi quindi io già ho difficoltà a ricordare i nomi Anche quelli semplici Figuriamoci dei nomi giapponesi e poi di così tanti personaggi Quindi di ognuno dovevo fare molto lavoro di memoria per rendermi conto di in quale modo fosse collegato al personaggio della storia precedente Quindi sono arrivata a un certo punto in cui ho perso le fila semplicemente Quindi mi sembrava di leggere tante storie separate Non ne vedevo la conclusione e mi dispiaceva perché io durante le pagine dedicate a quel personaggio mi affezionavo Quindi entravo nella storia però mi sembrava che non avesse una vera e propria conclusione E quindi mi sentivo un po' sperza La scrittura è coinvolgente poi l'autore è comunque occidentale Quindi come ho detto prima era una scrittura nella quale mi sono molto ritrovata Peccato perché appunto a un certo punto erano talmente tanti personaggi che Per me era difficile trovare il collegamento Però devo spezzare una lancia a favore di questo libro perché una donna che fa parte del club del libro Nel giorno in cui ne abbiamo parlato ha detto che invece lei è riuscita a tenere bene le fila di tutte le storie E quindi lei alla fine ricordava benissimo tutti i collegamenti Chiaramente nel momento in cui si ricorda questo la storia acquista un altro valore Quindi diciamo che probabilmente è stato magari un problema mio Forse l'ho letto troppo lentamente un po' spezzettando la lettura Oppure leggendolo la sera avevo difficoltà a memorizzare i nomi Magari ecco se siete persone con una lettura più veloce o una buona memoria Può essere il libro che fa per voi Perché l'idea è veramente carina nel vedere così tanti personaggi Collegati in qualche maniera da questa gatta e le loro vite Però se poi vi perdete come ho fatto io Secondo me si perde un po' gran parte del contenuto ecco di questo libro Bene ragazzi il video finisce qui Io spero vi sia piaciuto Fatemi sapere voi cosa avete letto nell'ultimo periodo E se avete letto alcuni dei libri dei quali ho parlato E che cosa ne pensate Soprattutto degli ultimi due Sono molto curiosa perché sono due uscite recenti E so che molti di voi li hanno adocchiati in libreria E niente noi ci vediamo prestissimo in un altro video Ciao Ciao